Carissimi amici, carissime amiche, è la giornata missionaria mondiale ed è la trentesima domenica del tempo ordinario. La Chiesa fa celebrare ogni anno questa giornata missionaria e ha dato anche un tema, non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Come sempre ci lasciamo guidare dal Vangelo di Marco, ascoltiamolo insieme. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cecco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco dicendogli «Coraggio, alzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose «Rabboni, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse «Va, la tua fede ti ha salvato!». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Cari amici, il brano evangelico ci narra di questa guarigione del cieco Bartimeo operata da Gesù a Gerico. Gerico lo conosciamo anche per essere stato teatro di altri incontri e di altri miracoli avvenuti. Ricorderete certamente anche la chiamata di Zaccheo a Gerico. Ricorderete altri episodi. Gerico era l'ultima città che si trovava nella zona della Giudea, nella zona accanto al lago, oggi il Mar Morto, prima di prendere la strada in salita verso la capitale, verso Gerusalemme. Nell'arco di 30 chilometri c'è un dislivello di circa mille metri, perché si passa dai 400 metri sotto il livello del mare, dove si trova il Mar Morto, ai 600 metri di Gerusalemme. Ecco quindi di buon mattino Gesù lasciò la città e, sempre accompagnato di discepoli e da molta folla, intraprese il cammino verso l'ultima tappa, Gerusalemme. Ed è proprio qui, appena fuori di Gerico, che un mendicante cieco che sedeva sul margine della strada, sentendo il brusio della folla, ma sentendo soprattutto che c'era Gesù Nazareno, considerato da tutti il Messia, si mise a gridare «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». La folla gli chiede di tacere, di non disturbare, mentre Gesù lo chiama. Chiamatelo! e Bartimeo, pieno di entusiasmo, subito si diresse verso Gesù. La domanda sembra anzi quasi fuori luogo, quasi scontata. «Che cosa vuoi che io faccia per te?», chiede Gesù. E il cieco «Rabbunì che io riabbia la vista». Lo chiama «Maestro». «Rabbunì che io riabbia la vista». Sì, perché Bartimeo non era cieco dalla nascita. Bartimeo era diventato cieco dopo, in seguito. E allora ecco la grande fiducia di Bartimeo in questo che sicuramente quel Gesù di cui ha sentito parlare come taumaturgo, solo lui può restituirgli la vista. e infatti Gesù gli dice «La tua fede ti ha salvato». Va e tu riacquista la vista. Ecco quindi l'Evangelista aggiunge anche un particolare e subito vide di nuovo e lo seguiva lunga la strada. «Cari amici, la tua fede ti ha salvato». Ecco quindi questa fede nel Messia, figlio di Davide, lo ha liberato da una situazione di tenebre e soprattutto lo ha salvato dalla cecità spirituale. Così avviene anche per ciascuno di noi quando crediamo che Gesù non solo è il Maestro, ma ci può liberare dalle tenebre del peccato e dell'errore e portarci alla vera luce. Questo è il grande miracolo, più importante ancora che recuperare la vista, recuperare la fede. Buona Domenica! Grazie a tutti!